Ha toccato diversi punti della costa romagnola la mareggiata che poco dopo le sette di ieri ha portato l'acqua all'interno di numerosi stabilimenti balneari. Un fenomeno che ricorda la stagione invernale e che invece accade a metà giugno ed ha portato il mare quasi fino alla pineta. Nella giornata il mare era stato molto agitato, nel pomeriggio a punta marina nel Ravennate era annegato un 51enne che si era immerso nelle acque agitate insieme al figlio. La mareggiata ha colpito diverse aree ma in particolare il mare è entrato prepotentemente sulla sabbia a Cesenatico e nel Ravennate. In particolar modo sono stati colpiti gli stabilimenti tra Marina di Ravenna e Lidodriano dove in molti casi si è arrivati ad oltre mezzo metro d'acqua tra gli ombrelloni e nelle strutture a ridosso della spiaggia. Non c'è stato nulla da fare, in un giro di 40 minuti neanche avevo l'acqua al ginocchio completamente. Per cercare di ripristinare la situazione di normalità sono state mobilitate diverse squadre di vigili del fuoco che hanno utilizzato l'idrovore insieme al personale della protezione civile. I danni dovranno ora essere quantificati ma risultano ingenti e preoccupano ovviamente gli operatori balneari che già sono alle prese con condizioni meteorologiche che non facevano dormire sonni tranquilli appunto agli operatori del settore.